Grazie a tutti. Dopo i problemi dello scorso anno si prevede una stagione positiva per la raccolta del pomodoro in Basso Molise. Una nostra troupe ha incontrato un giovane imprenditore agricolo in una contrada di Porto Cannone per fare il punto della situazione. Ascoltiamo Fabrizio Chionero. Tra le campagne del Basso Molise è iniziato il periodo della raccolta del pomodoro, coltivazione sulla quale alcune aziende agricole hanno deciso di investire per fare reddito e fronteggiare anche la concorrenza straniera sui canali di vendita. Questo campo si trova incontrato a Sant'Angelo tra la statale 87 e Porto Cannone ed è pronto per la raccolta secondo i metodi stabiliti per l'agricoltura biologica. All'inizio c'è stato il problema delle forti piogge e delle temperature molto basse che hanno impedito alla pianta di vegetare subito. Successivamente, fortunatamente, le temperature si sono rialzate e il pomodoro è ripartito anche con le numerose lavorazioni del terreno. Dopo i problemi del 2013 le prospettive di quest'anno sono positive. Quest'anno si prevede, almeno per adesso, un'ottima annata. Le temperature sono buone e non ci sono stati attacchi della famosa nottua gialla, anche grazie a un virus che abbiamo usato preventivamente che ha bloccato le larve nella crescita. Tutto biologico? Tutto biologico, naturalmente. I pomodori, tondi o lunghi, vengono distribuiti nei conservifici e sui mercati di altre regioni. In parte restano in zona e se per il pomodoro l'annata sembra favorevole, lo stesso discorso non vale per la frutta. Quest'anno c'è stato il grosso problema della frutta. Il 90% della frutta italiana è rimasta invenduta, un poco a causa delle temperature, della pioggia e delle forti importazioni che arrivano dalla Spagna con prezzi bassissimi. Cosa si può fare? Noi abbiamo avuto tante avversità. Noi agricoltori di più non possiamo fare. L'unica cosa che si può fare è che lo Stato deve intervenire per calmare un po' queste grosse importazioni. E sono in tanti in vacanza in questi giorni e in diversi sceglieranno di partire anche dopo Ferragosto. L'Associazione dei consumatori Ad hoc Molise ha stilato un vademecum per richiedere il risarcimento danni di eventuali disservizi verificatisi durante le ferie. Sentiamo Tonino Danese. Non sono purtroppo rari i casi di vacanza non perfetta, vacanza in cui gli inconvenienti e i danni subiti non mancano. L'Associazione dei consumatori Ad hoc Molise ha diramato dei consigli per richiedere eventuali risarcimento. Prima di acquistare fa sapere il cliente ha il diritto di ricevere copia scritta del contratto offerto con indicate le generalità del venditore, caratteristiche del viaggio, prezzo e quanto ad esso legato anche per la sua revisione, assicurazioni. Eventuali modifiche al prezzo vanno applicate solo se previste dal contratto e legate a situazioni specifiche e tali variazioni possono essere applicate nei 20 giorni precedenti la partenza, ne possono superare il 10% del costo pattuito in origine. Per modificare una o più parti del contratto, continua l'Ad hoc, il venditore deve avvisare subito il consumatore, il quale a sua volta deve comunicare cosa decide entro due giorni dall'avviso. In caso di disservizio di saggi, come spese effettuate e non dovute, il cliente deve immediatamente reclamare al momento del danno subito, contestando entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro, con raccomandata e allegata documentazione utile al tour operator o agenzia. In caso di risposta negativa, l'altro passo è il giudice di pace. Per quanto riguarda poi perdita, smarrimento o distruzione di bagagli, spiega l'Ad hoc, bisogna presentare denunce all'ufficio oggetti smarriti dell'aeroporto di arrivo. Se la valigia non viene riconsegnata entro 21 giorni, inoltrare richiesta di risarcimento danni all'ufficio relazioni clientela e o assistenza bagagli della compagnia aerea con cui si è viaggiato. Se riconsegnata in ritardo, inviare negli stessi tempi richiesta di risarcimento spese sostenute. Anche se il bagaglio è danneggiato, va fatta domanda. Per quanto riguarda l'entità di risarcimento, conclude l'Ad hoc. Molise va fatta una distinzione tra compagnie aeree che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999, la maggior parte quelle che non vi aderiscono. Nel primo caso il passeggero ha diritto a un risarcimento di 1.164 euro per ogni bagaglio registrato in relazione al danno subito. E adesso uno sguardo a qualche appuntamento previsto oggi. A Gambatesa, dalle 21, finale del Festival della Canzone Dialettale Molisana, giunto alla sua venticinquesima edizione, sono 15 le canzoni in gara rappresentative dei dialetti della nostra regione. Sempre alle 21, ma a Montorio, nei Frentani, diciottesima edizione di Noi Artisti di questa terra, con spettacoli di musica, ballo e canto. Ospiti d'onore l'ambasciatore italiano in Francia e Vittorio Sgarbi, che illustrerà l'opera pittorica della Chiesa Madre del Paese. Verranno consegnati anche dei riconoscimenti, tra cui uno all'Arcivescovo Bregantini, per essersi distinto in ambito culturale. E in chiusura rinnoviamo un appello per due cani che si sono smarriti in contrada a Riovivo a Termoli, nei pressi del Lido. Giorgione, uno è grande, si chiama Nero e ha dieci anni. Bianca, di media grandezza, ne ha sei. Portano un doppio collare e hanno il tatuaggio del canile di Campobasso. Sono due cani docilissimi, sono stati avvistati l'ultima volta nella zona industriale di Termoli. Chiunque avesse notizia può mettersi in contatto con la nostra redazione. I proprietari hanno garantito una ricompensa a chi li trovasse. Questa è la nostra ultima notizia. Passiamo alla rassegna stampa. Partiamo con il giornale del Molise.it che ha questa apertura stamane. Monaco batte un colpo. Sulla fecondazione eterologa il Molise si adegui alla Toscana. Un tema di largo interesse in questi giorni. Vediamo poi le notizie in evidenza. San Giovanni Remita a Tufara. Tutto pronto per il pellegrinaggio. Bilancio e rendiconto. Il Consiglio dei Ministri promuove la Regione. Edilizia scolastica. Di Lisa scrive a Renzi. Assordante il silenzio della Regione Molise. Ferragosto all'insegna della cultura. Musei e siti archeologici aperti in tutta la Regione. Comune di Campobasso. Risultati raggiunti ed obiettivi futuri. Battista traccia il primo bilancio. Termoli alla Galleria Officina Solare. Le sculture di Antonio di Maria. Termoli sfregia la moglie con una coltellata. Arrestato 44enne rumeno. È un aggiornamento su questa inquietante vicenda. Ricostruzione. Stanziati 2 milioni di euro. Sant'Angelo in grotte. Battaglia per difendere il monumento ai caduti. Ci sono poi, come di consueto sul giornale del Molise, le notizie dall'Italia e dal mondo. Diamo un'occhiata al resto della stampa locale e andiamo a vedere come apre primo piano Molise. Lavoro. Le vertenze non vanno in ferie. Domani mattina il presidio in Via Genova o organizzato da Wiltux e Filcams CGL. Il punto dei sindacati sulle emergenze ancora aperte. Sit-in per gli auguri di Ferragosto a chi ci governa. Andiamo a vedere di spalla il dibattito. Eterologa. Monaco spinge la regione. Siamo indietro. Serve un centro come in Toscana. Da Campobasso. Primi due mesi da sindaco. Per Battista è già tempo di tirare le somme. A centro pagina Renzi promuove le leggi finanziarie di Palazzo Vitale. Post-sisma. Altri 2 milioni di euro dall'Agenzia regionale di protezione civile per liquidare le imprese. Carovilli. Caccia precipitato. Parte la bonifica. Oggi un elicottero porterà via il motore. A Sant'Angelo in grotte. Sdegno per il trasloco del monumento ai caduti. Così si calpesta la memoria dei morti. In guerra da Campobasso. Situazione al limite nel carcere di Via Cavour. Di sabato subito un'ispezione ministeriale. Abruzzo da San Salvo. Nottambula 2014. Tanto divertimento dal 19 all'alba. Le notizie sportive. Serie D. Campobasso. Cabangu. Ursini e Lima ai saluti. Eccellenza. Doppio colpo per l'Isernia. Presi. Sabatino e Ryugiero. Idea. Buonanno. Ciclismo. Eneco Tour. Apollonio. Settimo. Sul traguardo di Eusden. E andiamo adesso a vedere l'apertura che fa il quotidiano del Molise. Eterologa. Seguiamo la Toscana. Depositata ieri dal consigliere Filippo Monaco che chiede l'attivazione di un registro dei centri PMA sulla tecnica di fecondazione assistita. presentata quindi la mozione in regione. Taglio alto. Battista sulle orme di Renzi. Prima di tutto i cittadini da Campobasso quindi verso la riorganizzazione dei servizi comunali. Isernia. Prosegue l'accoglienza profughi. Altri 50. Arrivi. Bilancio e finanziaria promossi dal consiglio dei ministri. Ricostruzione post-sisma. Ciocca via libera della giunta. ad altri 2 milioni per l'Agenzia di protezione civile. Vediamo adesso. Ieri tappa a Termoli. Da Lignana a Molfetta. Mille chilometri. In pedalò. Questa notizia davvero molto curiosa. Le notizie sportive. Serie D. Lupi. Testa San Salvo. In tre. Lasciano il ritiro. Serie D. Olimpia. Agnonese. In campo per il torneo di Tella. Eccellenza. Isernia. Altri due colpi. Firmano, Sabatino e Ruggiero. E passiamo alla stampa nazionale. Con il Corriere della Sera. Lavoro. Lo statuto. Cambierà. Renzi sull'articolo 18. Totem ideologico. Inutile discuterne. Il Premier dopo le pressioni del nuovo centrodestra. Preoccupa l'inflazione vicina allo zero. In dieci città i prezzi calano. Vediamo poi a centropagina una notizia che francamente non avremmo mai voluto dare. Quella della morte di Robin Williams. Una bella fotografia. Il genio comico con il buio nell'anima. E dal Corriere andiamo a vedere adesso l'apertura di Repubblica. Renzi e l'articolo 18. Basta con i totem. Allarme. Deflazione. Attacco ad Alfano. Ma va riscritto lo statuto dei lavoratori. Mai più soldi pubblici ai carrozzoni come l'Alitalia. dice Renzi. E anche qui vediamo una foto di Robin Williams. Nuova tragedia nel cinema. Aveva 63 anni. Ed era depresso. Si impicca Robin Williams. L'attimo fuggente di Hollywood. Andiamo adesso al quotidiano torinese. La stampa. E vediamo l'apertura. Anche qui si parla di lavoro. Renzi. Lavoro sia nuove regole. L'articolo 18 è solo un totem dibattito inutile. Ma riformiamo lo statuto. Si va verso l'accordo tra PD e il nuovo centrodestra per cambiare le tutele dei neo. Assunti. Berlusconi vuole proporre al Premier un accordo anche sull'economia. Allarme. Deflazione. Prezzi in calo in 10 città. Anche qui una bella foto di Robin Williams. Il comico che fa piangere il mondo. Il protagonista dell'attimo fuggente Premio Oscar si è tolto la vita a 63 anni. Depresso e con problemi di soldi. dice la stampa di Torino. Andiamo a vedere come apre invece stamane il tempo, il quotidiano romano. Anche il prefetto li chiama Vucumpra. Attacchi ad Alfano. Per quelle parole non si difendono così gli immigrati. Gli abusivi intervistati confermano. Per noi non significa nulla. Renzi in tv io non lo avrei detto. Anche qui Robin Williams. Alcol e mal di vivere. Williams si è impiccato. È bastato un attimo e Robin è fuggito. Vediamo invece l'apertura che fa stamane il quotidiano dei Vescovi. L'avvenire è un'apertura di politica internazionale. Maliki si arrente. Spiragli per l'Iraq. Obama serve un governo inclusivo. I re d'Usa rafforzano i curdi. Ma non fermano i jihadisti. Sulle armi e i peschmerga si compatta il fronte dell'Unione Europea. La Santa Sede. L'Islam condanni le violenze. Vediamo poi a centropagina. Renzi ad Alfano. L'articolo 18 è un totem ideologico. Il fatto quotidiano. Ecco l'apertura del quotidiano di travaglio. I consumi vanno a picco. La troica dietro l'angolo. Nuova mazzata dell'Istat. Dieci grandi città. Già in deflazione. I prezzi ai livelli del 1959. L'economia italiana è ferma. Malgrado i mitici 80 euro. L'Europa pretende interventi immediati. E se in autunno la situazione non migliora, il rischio di commissariamento diventa reale. Gli esempi di Grecia, Portogallo e Cipro. Renzi in trincea. Situazione drammatica. 16 miliardi di tagli. Vediamo poi una notizia che troviamo solo sul Fatto Quotidiano. I due papi alleati, famiglia e divorziati. Ratzinger aiuta Bergoglio contro i conservatori. E questa decisamente è una buona notizia. Il giornale di Milano. Gli italiani scappano, basta immigrati, record di emigrazione a Londra. E la conferma che le risorse del paese non bastano neppure per noi. Paradossi dell'accoglienza. Ci teniamo gli scrocconi e non riusciamo a dare asilo ai veri. perseguitati. Vediamo poi a centropagina. Foto notizia degli uffizi di Firenze. Boom di turisti. Ma gli uffizi chiudono, mancano i fondi per gli straordinari dei custodi. Si parla anche di Renzi. Renzi mette in riga l'alleato Alfano. E allarme deflazione. I prezzi calano in dieci grandi città. E sono guai. E dal giornale di Milano andiamo a vedere l'apertura di Libero. I 20 consigli del fisco per chi ha una casa. Vademecum antitrappole. Ecco come destreggiarsi tra i mille comuni delle leggi per gestire e affittare un appartamento senza incorrere in sanzioni che possono arrivare al 400% dell'importo dovuto. rischio bolla sui fondi immobiliari. Renzi dribbla l'articolo 18. Inutile parlarne adesso ma sul lavoro si cambia. Poi vediamo qui la foto notizia che riguarda il ministro Boschi. Meglio la forma della riforma. Questo è il commento che fa Libero sulla foto del ministro Boschi in bichini. E dal Libero passiamo a vedere l'apertura del mattino. Renzi articolo 18. Un totem ideologico. Il premio a rimissione a Napoli. Più spazio ai privati a Bagnoli. E accelerazione sui fondi dell'Unione Europea. La replica ad Alfano. Il dibattito è inutile ma cambieremo lo statuto dei lavoratori. Basta aiuti ai carrozzoni pubblici. E dal mattino passiamo all'informazione sportiva con la Gazzetta dello Sport. Conte Italia si può. Il CT Azzurro Tavecchio telefona all'ex tecnico della Juve. C'è aria di svolta. Antonio è vicino al sì ma chiede che le sue condizioni siano messe per iscritto. Vuole agire a tempo pieno. Poter fare stage e controllare tutte le squadre nazionali. Anche la famiglia lo spinge ad accettare. Il nodo economico determinante il ruolo degli sponsor. Questo dice la Gazzetta dello Sport. E con l'informazione sportiva si chiude la nostra rassegna stampa. L'appuntamento è alle 14 con il nostro telegiornale. A voi tutti l'augurio di una serena giornata.